Ciao amici, siamo a Chiaramonte, è la strada che conduce verso la parte esterna del paese. Siamo in macchina perché fuori ovviamente è un freddo terribile. Stiamo percorrendo piano piano tutta la strada e stiamo arrivando fino in cima al monte Arcipessi. Come vedete la nevica è stata più che abbondante, stiamo camminando proprio lentamente. Stiamo vedendo come l'intero monte Arcipessi è stato completamente ricoperto di neve. Questo è successo nel giro di pochissimi, pochissimi, pochissimi stanni. Stamattina nevicava, è iniziato verso una e mezza, nevicava però poi la neve non foggiava a terra. Anche già adesso potete vedere sì, alberi, case, tutto è nevato. E insomma è uno spettacolo piuttosto insolito, anche se quest'anno l'inferno ci ha abituato anche a questo. Quindi se volete portare i vostri bambini a fare un giro con lo frittino, venite tutti a Chiara Monteculfi, è arrivato il momento. Ve lo voglio dire perché veramente questa nevicata così abbondante nel giro di tre ore non me la ricordo. Vado a memoria d'uomo ma francamente non me la ricordo assolutamente.